Ed in apertura di giornale vi abbiamo parlato di queste due vittime del caldo sul litorale toscano. Abbiamo visto quanto può essere importante e fondamentale la presenza sulle spiagge del defribillatore. Mi arriveranno altri 18 proprio sulla costa toscana. Ed allora andiamo a vedere i dettagli. In America... E malgrado i 39 gradi, molti a Firenze hanno sfidato il clima torrido e il sole a picco per raggiungere la spiaggetta dell'Arno, dove si stanno preparando i maxi schermi per poter vedere la partita Italia-Germania. Sentiamo Vittorio Vetti. Sono della morte del bambino di 11 anni durante la gita in Calvana. Forse ci sono stati... C'è voluto più di un'ora per soccorrere appunto Franco. Forse c'è stato un buco nella macchina dei soccorsi e forse poteva essere salvato. Intanto la diocesi attacca il 118, la situazione è stata sottovalutata. Sentiamo un po' la situazione da Massimiliano Mantiloni. Preso a bottigliate e cosparso di benzina per poi dargli fuoco. Un ragazzo trentenne è riuscito a scappare, ha chiamato il 113. Adesso quattro degli autori di questo episodio di violenza sono stati arrestati. Vediamo. Tutto cittadino e bandiere a mezzasta anche sugli stabilimenti balneari a Viareggio. Tutto questo per ricordare domani la strage ferroviaria del 29 giugno, il terzo anniversario. Simone Bacchini. La pagina del lavoro, il Monte dei Paschi di Siena, riduzione di 400 filiali e riduzione di 4.600 posti di lavoro e di sindacati annunciano lo sciopero.